Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Ephraim e questo è Garage19. Ritorno sulla Lancia Delta 1990 CV Twin Turbo. Abbiamo già effettuato qualche altro lavoretto in diversi video. Ad esempio in quello precedente siamo andati a vedere come sostituire l'olio del cambio. E allora oggi andremo ad utilizzare lo scanner OBD, una diagnosi, per due operazioni da effettuare subito dopo aver effettuato il tagliando. A tra proposito trovate in descrizione il video del tagliando completo fatto qualche tempo fa. E allora c'è da fare un adeguamento alla centralina subito dopo la sostituzione dell'olio. Questo adeguamento va fatto per tutti i modelli che hanno montato il filtro antiparticolato. Allo stesso modo dobbiamo andare ad azzerare anche la spia di service che ci esce sul quadro strumenti e indica appunto la manutenzione scaduta o comunque quanto tempo o chilometri ci rimane prima di effettuare la stessa. E proprio andando a collegare il PC e utilizzare il programma Autocom appunto per fare questi reset qui mi sono accorto di una cosa un po' particolare. Ovvero andando a leggere la centralina quindi anche vedere se ci sono errori memorizzati l'odometro della centralina quindi i chilometri percorsi dall'attuale centralina sono circa 250.000 così come sono segnati i chilometri nel momento in cui la centralina è stata riprogrammata nello specifico 140.000. Ovviamente chiedete voi ma cosa c'è di strano? Beh la cosa curiosa è che spostandoci nella sezione del quadro strumenti andandolo ad analizzare sempre da scanner o BD l'odometro ci indica poco più di 190.000 chilometri che sono appunto quelli segnati sul quadro strumenti andando ad accendere l'auto sull'auto vengono appunto segnati 192.000 chilometri. Beh, cosa è successo? È stata sostituita la centralina? È stato sostituito il quadro strumenti? Sono stati scalati i chilometri a quest'auto? Non ho idea, io rimango con il beneficio del dubbio. A voi libera interpretazione. Ma bando alle ciance iniziamo subito il nostro lavoro di azzeramento della spia service così come l'adeguamento della centralina dopo la sostituzione dell'olio. Ma prima di iniziare come sempre, like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Entrando nell'auto, la presa OBD si trova sul lato sinistro del volante, dietro questo sportellino qui tenuto da tre viti a croce che dobbiamo andare a svitare. Una volta svitato, di sotto c'è la nostra presa, colleghiamo il nostro OBD, la nostra diagnosi, apriamo il programma Multi e Qscan e ci spostiamo su Indicazione e Assistenza e entriamo all'interno. Qui vediamo tutte le nostre informazioni, tutti i parametri con le varie indicazioni, i vari chilometraggi e i vari tempi di utilizzo. Spostandoci nella sezione adeguamento, andiamo su Azzeramento, distanza, prossimo servizio e azzeriamo appunto sia i giorni rimanenti che i chilometri percorsi. Così come andiamo a resettare tutti gli altri indicatori, ad esempio il massimo di chilometri percorsi dopo cui apparirà la nostra spia, in questo caso li impostiamo a 15.000, così come anche ai 365 giorni già impostati. Il numero di taglianti di manutenzione lo riportiamo a 9, quindi un contatore che parte da 9 e arriva a 0 lo facciamo ritornare a 9. Così come impostiamo anche per finire la data dell'ultimo servizio, ovvero quella di oggi. E quindi ritornando ai nostri parametri, adesso sono settati, sono stati modificati correttamente. Possiamo leggere la data dell'ultimo servizio, quella di oggi, i numeri di servizio rimanenti, l'intervallo dei servizi ogni 15.000 chilometri e così via. Ultima procedura da effettuare dopo il cambio dell'olio è sempre tramite il nostro multi-ecuscan entrare nella centralina, nel controllo motore, spostarci su adeguamento e tra le varie funzioni dobbiamo cercare sostituzione olio. Questa procedura, come è indicato nelle note, bisogna effettuarla per tutti i modelli che hanno il filtro antiparticolato subito dopo il cambio dell'olio, per aggiornare i parametri della centralina riguardanti la qualità dell'olio motore. Subito dopo aver effettuato questa operazione spegniamo il quadro, lo lasciamo spento per 60 secondi e abbiamo concluso. E allora accendendo adesso il quadro strumenti possiamo vedere che non vi è alcuna indicazione di service da effettuare, manutenzione. C'è solo la spia di controllare la luce targa ma per il resto tutto a posto. Bene anche questo video finisce qui, come sempre like se ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Ti invito come sempre a leggere qui sotto la descrizione per trovare altre informazioni utili, così come ti ringrazio se effettuerai un acquisto di un qualsiasi prodotto presente su Amazon tramite un link di affiliazione che trovi qui sotto perché verrà riconosciuto una piccolissima percentuale sull'acquisto e aiuterai perciò a far crescere il canale supportandolo. Ti ricordo inoltre che sono presente anche su Instagram e TikTok, passa a dare un'occhiata, trovi sempre qui sotto in descrizione i link ai profili. Grazie e alla prossima! Grazie a tutti!